Buongiorno Eccoci qua di nuovo, riprendiamo i lavori del convegno e li riprendiamo parlando direttamente con le aziende. Cominciamo con una tornata di distributori, di rivenditori che hanno sconfitto il lockdown, speriamo che continui così, ma lo vedremo. E chiamo qua sul set Paolo Oltramonti, responsabile marketing di Zanutta, Federico Nessi, direttore commerciale di Eternedile, Stefano Anesa, responsabile commerciale di Testa e Marica Furlan. Qui però mi sembra che manchi una poltrona, quindi mi prendo uno sgabello, se c'è anche Marica Furlan, che però non vedo, la vedo. Arrivano, stanno microfonando, gli ultimi arrivati mi appollaio qua e cominciamo a parlare. Io vorrei subito rivolgermi a voi partendo dal discorso di questa mattina. Come le aziende hanno affrontato questo periodo difficile, il primo periodo difficile, quello del lockdown, della chiusura, e come hanno reagito e quali sono le strategie che hanno pensato, cioè qual è l'atteggiamento per i prossimi mesi, visto che comunque la situazione è difficile. Questa mattina sono stati affrontati molti punti e tra l'altra cosa, come dire, mi sembra che uno dei temi di attualità sia proprio quello dell'organizzazione e della tecnologia che deve essere implementata in modo maggiore. Io partirei da là in fondo, così, visto che qui manca ancora uno dei partecipanti. Oltramonti, allora iniziamo con Zanutta, come ha vissuto il periodo di lockdown e qual è stata la reazione? Allora, la reazione è stata, devo dire la verità, molto molto rapida e l'azienda è riuscita a reinventare, riadattare qualche figura professionale per andare verso il cliente. Quindi si è inventata in pochissimo tempo, è riuscita a mettere su una sorta di e-commerce artigianale per andare a servire il privato a casa. Quindi, riadattando le figure professionali, si è riuscita ad andare a compensare una parte del business andando a collezionare ordini dal digitale e andando a consegnare direttamente a casa al privato il materiale. Questa è stata la leva più importante e la reazione più efficace e immediata dell'azienda fondamentalmente. Ecco, lei diceva di e-commerce artigianale. Spieghiamo meglio, in che senso? No, nel senso che è stato messo su in pochissimo tempo una serie di modalità di collezione ordini online che definirla un e-commerce vero e proprio sarebbe un po' tirato per i capelli. Voi che siete primi infatturato, però non siete ancora scivolati sull'idea della omnicanalità, mi sembra. Stiamo lavorando la strategia giusta per andare a essere efficaci e soddisfare le esigenze del cliente in un mondo che sta diventando per definizione un omnicanale e anche considerando questa accelerazione dovuta proprio a questo virus che sta un po' cambiando le dinamiche del mercato e il comportamento del cliente finale. Ok. Federico Nessi, chiedo la stessa cosa. Come avete vissuto e affrontato soprattutto il periodo di lockdown? E qual è stata la reazione non soltanto emotiva ma anche organizzativa? Con Whatsapp. Con Whatsapp. Con tantissimi gruppi Whatsapp, nel senso che si sono scardinati completamente gli schemi orari, le decisioni devono essere velocissime perché ora dopo ora cambiavano le prospettive, i decreti erano all'ordine del giorno, le comunicazioni di Conte erano sempre anticipate da gossip sui giornali e quindi fondamentalmente la rapidità decisionale è stata la variabile più importante, quindi mi viene da dire con una battuta Whatsapp. Ha funzionato o no? Ha funzionato assolutamente sì, nel senso che con tutte le figure di responsabilità che abbiamo all'interno delle nostre filiali abbiamo preso decisioni rapide e soprattutto abbiamo preso decisioni che erano estremamente pesanti per il momento che vivevamo e quindi decidere se tenere aperto o meno. Noi abbiamo chiuso soltanto una settimana, ci siamo appellati alla possibilità di poter servire i grandi cantieri, gli ospedali, eccetera. C'era tutto il fattore delle classi merce logiche, codice a teco, insomma dinamiche che sappiamo che abbiamo ben conosciuto tutti e quindi sì, credo la velocità decisionale sia stato il fattore critico di successo. Poi senza parlare dell'aspetto del credito che è stato un tema su cui abbiamo attenzionato tutto l'ufficio credito con una grandissima attenzione perché è evidente che un portafoglio clienti è iper diversificato tra clienti con un rating elevato e clienti con un rating basso e quindi abbiamo dovuto chiaramente imputare un coefficiente di rischio legato al fattore Covid che era imprescindibile. Mi sembra però che ci sia una certa soddisfazione, nel senso abbiamo affrontato, siamo riusciti tramite Whatsapp, siamo riusciti a gestirlo ma in futuro è un cambiamento di struttura organizzativa anche che è in prospettiva o no? Allora sicuramente, ne parlavo prima con Paolo che ci siamo un pochino confrontati in pausa pranzo questi momenti sono anche utili per il confronto con dei competitor e la struttura organizzativa è stata strutturata, perdono il gioco di parole nel senso che è evidente che essendo un'azienda molto giovane paradossalmente in termini di crescita perché siamo passati dall'avere, io sono otto anni che sono in azienda, sono entrato, facciamo 38 milioni oggi ne facciamo 100, insomma nel 2019 ne abbiamo fatti 100 è evidente che siamo andati incontro a delle trasformazioni importanti come quando un ragazzino che cresce, la sua struttura fisica si deve adattare alla crescita che sta vivendo quindi è la stessa cosa, alla fine un'azienda è fatta di tanti esseri umani e ci siamo adattati al nostro cambiamento, oggi ci siamo strutturati in una struttura matrice per quanto riguarda classi mercelogiche, divisionali, di multispecializzazione e invece una suddivisione geografica che per forza di cose entra in campo nel nostro settore essendo noi comunque l'azienda che a livello di capillarità, geografica insomma abbiamo un magazzino da Milano a Lanciano per fare una rima insomma sono 600 passa chilometri quindi sono fattori che incidono ovviamente nella struttura gerarchica Passiamo invece a Stefano Amesa, qui facciamo il giro Io pongo la stessa domanda perché è curioso, mi sembra che già due aziende che operano nello stesso campo però abbiano avuto modelli un po' diversi, sono come dire, non un po' all'italiano ognuno tira fuori la sua inventiva, la sua creatività e cerca di gestire il suo modo Voi come avete fatto? Alcuni aspetti sono già stati trattati dai colleghi C'è stata una prima fase di panico, di paura, i clienti ci chiamavano preoccupati per la situazione in atto e quindi c'è stato appunto in primis il problema credito Abbiamo affrontato con una per fortuna piccola parte di clientela questo problema e siamo andati incontro al cliente su questa problematica qui Sul discorso in generale dei rapporti con i nostri fornitori, i nostri clienti sono andati avanti come sempre In più abbiamo, forse ci siamo ancora avvicinati ancora di più col cliente rispetto a prima perché abbiamo colto le loro preoccupazioni, le loro problematiche e il fatto di essergli andati incontro non solo sul discorso credito ma anche sul discorso di servizio c'erano dei clienti che erano autorizzati per lavorare in questa fase di lockdown e hanno avuto problemi di approvvigionamento con i vari fornitori che avevano e quindi anche lì siamo intervenuti per assicurare le forniture e per tranquillizzarli e per servirli al meglio come sempre Ci sono state videoconferenze, ci sono state anche tanto whatsapp anche per quanto si riguarda noi videoconferenze anche con i clienti è stata una fase gestita anche con tranquillità devo dire mi ha stupito questo, pensavo più caos invece siamo riusciti ringrazio i miei colleghi che hanno seguito più di me le problematiche riguardanti le autorizzazioni, la prefettura, la questura dire al cliente, spiegare al cliente cosa dovevano portare di documentazione quindi devo dire che è stata affrontata bene questa fase qui di due mesi di lockdown Ecco Furana, invece dal punto di vista organizzativo interno vi siete strutturati in modo diverso, è cambiato qualcosa? Fortunatamente sul verso smart working eravamo pronti abbiamo sempre creduto nel digitale e avevamo già fatto degli investimenti delle correzioni che si sono rivelati più che utili Per esempio? Per esempio il lavoro da remoto, avevamo la struttura, ovvero le tecnologie implementate per approcciare questa tipologia di lavoro mai utilizzato ma eravamo pronti questo sicuramente ci ha permesso di dedicarci subito l'attenzione al cliente senza riorganizzare l'azienda in poche ore eravamo a casa a lavorare fin da quando appunto c'era il sentore che qualcosa si doveva fare ovvero ci si doveva tutelare ancora prima delle restrizioni dei vari decreti e in questo modo abbiamo potuto dedicare attenzioni a tutto ciò che era nuovo a livello più che altro burocratico e mi leggo al concetto del collega Stefano sul servizio dedicato al cliente i commercialisti quindi i loro studi erano oberati di lavoro e noi siamo subentrati in quello che potevamo fare quindi aiutare la clientiera grazie alla nostra struttura nella produzione di documentazione anche per loro conto è stato un po' un pacchetto in più dedicato al cliente a suo servizio che di fatto noi non inventiamo nulla se non curare al meglio il servizio e questo è sicuramente stata pedina vincente strategia sicuramente più che efficiente e ci ha portato sicuramente ad avere anche quel poco di lavoro più che soddisfacente perché è stato molto difficile però siamo stati molto orgogliosi diciamo come abbiamo improntato l'azienda in quel periodo e da questo esempio abbiamo sicuramente quando abbiamo ripreso il lavoro con un pochino più di quotidianità quindi da maggio in poi abbiamo ancora corretto la nostra strategia cercando ancora di snellire questa organizzazione e speriamo non dovrà più succedere una situazione simile ma siamo più che pronti ancora a continuare io farei un secondo veloce giro poi passiamo invece alla seconda tornata dei produttori abbiamo parlato di quello che è successo di come avete reagito ma adesso bisogna guardare avanti ci sono due aspetti diciamo quello positivo è che si sa già che peggio di così non può andare quindi diciamo che le aziende sono pronte comunque a un'emergenza l'hanno già vissuta quindi sanno che cosa può succedere il secondo aspetto è quello che come dire attiene a tutto l'aspetto dei super bonus della ripresa del mercato di cui abbiamo parlato sempre questa mattina e che quindi dà anche come dire uno spunto positivo non si può dire una parola che in questo periodo è vietata ma uno spunto di ottimismo diciamo così per il futuro che ne pensate? Partiamo da Oltramonti Zanutta come reagisce? Allora Zanutta fondamentalmente pensa che l'opportunità tutti questi super bonus siano visti ovviamente in maniera molto positiva dal pubblico all'esterno però c'è anche un tema di chiarezza e di trasparenza verso il cliente finale che in questo momento non ha sempre chiaro a cosa può accedere come e quando quindi in questo vediamo una grande opportunità anche nel aiutare le persone a capire quello che possono avere e come, in quale modo e in quali modalità perché ora come abbiamo imparato da recente al passato ci si mette di mezzo anche il virus delle dinamiche di un mercato un consumatore che sta cambiando ma anche il lavoratore che si trova a dover affrontare delle misure che prima non era non doveva affrontare Certo, lei tra le altre cose ha anche un'esperienza precedente in Ducati, no? Nel settore food e poi nel settore... Sì, io ho avuto la fortuna di fare due bellissimi processi di trasformazione digitale in due settori diversi No, glielo chiedevo perché dicevo ma questa esperienza diciamo in un settore consumer come può essere portata invece in un settore diciamo più B2B come quello dell'edilizia Partendo dal cliente partendo dall'attenzione al cliente andando a capire i benefici e le esigenze del cliente e andando a soddisfare un po' quello che sentivo di cui si parlava anche questa mattina del bellissimo esempio del trapano dove io non vendo trapani ma io vendo strumenti per fare dei buchi quindi andare a capire l'esigenza del cliente per poi fare chiamiamo retropensiero per andare a fornire tutti gli strumenti di cui ha bisogno perché il cambiamento è molto più culturale e di testa che di strumenti perché poi gli strumenti vengono di conseguenza Ok Messi chi vince? Il super bonus o il virus? Beh 10 a 0 il virus purtroppo nel senso che però i dati non dicono così però io temo che sia stato visto come la panacea di tutti i mali e sia stato sbagliato l'approccio comunicativo nel senso che gli annunci vanno fatti quando le cose sono fatte io credo e le comunicazioni fatte anzitempo così come è avvenuto sono state un male perché oggi come oggi credo che sia sotto gli occhi di tutti gli addetti del settore ottobre non è un mese favorevole e ancora il covid non ha colpito non ha colpito come colpirà nei prossimi sei mesi i prossimi sei mesi sono veramente un banco di prova molto importante si parla di lockdown si parla di lockdown in Francia imminente si parla di lockdown a Milano i prossimi sei mesi saranno molto duri e il 110% di sicuro non compenserà le problematiche che ci saranno nei prossimi sei mesi e su questo posso metterci la mano sul fuoco e soprattutto a differenza del 90% che va a una burocrazia molto più semplificata che ha generato anche delle problematiche all'inverso perché è stata sfruttata magari impropriamente in certi casi il 110% invece ha una quantità di paletti che lo rendono veramente poco affettibile in tante situazioni quindi non sarà la panacea di tutti i mali aiuterà sicuramente perché chi riuscirà a sfruttare riuscirà a districarsi tra la mole di carta che ci impone che impone lo Stato il bicchiere più mezzo vuoto assolutamente sì i prossimi sei mesi saranno durissimi saranno durissimi e chiaramente uno deve fare i conti con un forecast del cash flow per i prossimi sei mesi in maniera molto puntuale e questo è quello che noi stiamo facendo quindi un'attenzione alla liquidità estrema perché i prossimi sei mesi io credo che saranno molto duri perché il fattore macroeconomico e microeconomico sono interrelati quindi non possiamo pensare che se i ristoranti chiudono e falliscono il settore dell'edilizia sarà indenne ma ho preso l'esempio dei ristoranti perché è quello più la palissiana Aneda che ne pensa a lei? Penso che sarà un inverno durissimo ma che ci sono ottime prospettive a partire dalla primavera in avanti per un bel po' di tempo io la vedo così cioè stiamo aspettando il vaccino arriveranno i vaccini vaccineranno nel secondo semestre dell'anno prossimo sperando che siano vaccini sicuri del lavoro da fare grandi opere medie opere ce n'è tanto in Lombardia e non solo in Lombardia e quindi sappiamo che sarà un inverno veramente difficile ma sarà già una primavera già più improntata alla ripresa inverno duro ripresa assolutamente c'è il telelavoro voi siete a posto quindi state al caldo sì ma noi giustamente se i cantieri non partono lavorano anche noi in ufficio giriamo carte inutilmente quindi e soprattutto numeri inutilmente io confido invece sempre di più in Italia verso una digitalizzazione è un salimento di tutti i processi burocratici perché bloccano veramente tantissimo qualcosa si sta facendo per me c'è ancora tantissimo lavoro da fare il super bonus è un'ottima iniziativa a livello di obiettivo ma secondo me bisogna ancora lavorare molto sui mezzi di strumenti e soprattutto acquisire competenze è un fattore che dovrà essere cardine è cardine oggi ma dovrà esserlo sempre di più e velocizzare tutti i processi di formazione anche sfruttando la digitalizzazione perché no ora abbiamo scoperto che comunque anche da casa da remoto si può lavorare e studiare e secondo me con tutte le iniziative che si sono improntate la formazione è essenziale da parte di tutti perché senza dei professionisti che hanno le idee chiare ovviamente le aziende gli operai i lavoratori non potranno mai avere le idee chiare e questo per me è fondamentale e questo infatti è un momento di formazione io ringrazio tutti voi diamo la parola invece ai rappresentanti delle aziende produttrici prego grazie grazie a lei grazie buongiorno grazie a tutti